Confermo che abbiamo altri sette casi di positivi, tra i quali due familiari del signor Trevisan, la moglie e la figlia, da quello che ci risulta. Stiamo continuando con le verifiche dei contatti più ravvicinati, che hanno avuto i contagiati. Resta il fatto che comunque stiamo parlando di un virus che ha una bassa letalità. Purtroppo la letalità ce l'hanno le persone che già hanno una salute pregiudicata o danno altre patologie. Dieci casi in totale in regione, compresa la prima vittima. È il risultato del primo screening a cui sono state sottoposte tutte le persone che hanno avuto contatti con i primi contagiati. Solo uno nel veneziano, un uomo di mira. Gli altri tutti a voo e oganeo, che quindi si conferma come il primo e più pericoloso focolaio dell'infezione. Le informazioni escono con il contagocce dalla sede della protezione civile di Marghera, dove è in corso dalle nove il vertice dell'unità di crisi sul coronavirus, a cui partecipano, oltre al presidente del Veneto Luca Zaia e al ministro dei rapporti con il Parlamento Federico Dincà, in teleconferenza anche il ministro della salute Roberto Speranza e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il primo ad uscire dal vertice è il sindaco di Mira, che rassicura i cittadini. Scuole chiuse in paese, ma erano già chiuse per le feste, spiega. Test per tutti i contatti del malato e distribuzione di disinfettanti in tutti i punti aperti al pubblico. Oltre a ricostruire la catena dei contatti dei contagiati per cercare di arginare la diffusione, si sta cercando ora di capire come il virus sia arrivato nella zona, visto che nessuno dei malati è stato in Cina di recente. Durante la riunione in corso, ha dichiarato Dincà, saranno valutate tutte le contromisure necessarie, compreso l'isolamento delle zone più a rischio e screening preventivi di massa. Tutti i contagiati sono stati ricoverati all'ospedale di Padova, dove è stato allestito un apposito reparto isolato dal resto del nosocomio. Ma colleghiamoci subito in diretta con Giorgio Bonomi. A te Giorgio. Sì, buongiorno da Padova. Ci troviamo di fronte all'entrata del policlinico, dove restano gravi le condizioni dei due contagiati da coronavirus, i due 67 anni ricoverati al momento in terapia intensiva. Uno di Voe Uganio e l'altro di Mira, nel Veneziano. Per loro e gli altri eventuali casi di contagio, che potrebbero affluire nelle prossime ore, l'azienda ospedaliera ha aperto un intero reparto, ha dedicato un intero reparto. Qui per tutta la mattinata è stato un continuo afflusso di ambulanze, che hanno trasportato qui i casi sospetti, che vengono a fare i controlli per verificare l'eventuale positività al virus. Vengono nel reparto di malattie infettive. Nella notte è invece deceduto all'ospedale di Schiavonia a Monselice, nella bassa Padovana, l'altro contagiato, Adriano Trevisan, 77 anni, anche lui di Voe Uganio, contagiati dal virus, secondo quanto annunciato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l'unità di crisi che si è tenuta a Marghera, anche la moglie e la figlia di Trevisan. Il presidente del Consiglio Conte, sempre durante il meeting, ha detto di star valutando eventuali misure straordinarie per fermare il contagio. L'allerta è comunque massima, è a Padova e nei due siti finora interessati dal contagio, il paese di Voe Uganio e l'ospedale di Schiavonia, appunto dove si erano rivolti i primi due contagiati. Le notizie si susseguono. Ultima in ordine di tempo la decisione dell'amministrazione comunale di Vicenza di annullare le celebrazioni del carnevale che erano previste per questo pomeriggio. e si è allerta anche nelle aziende. L'ex presidente degli industriali del Veneto, Matteo Zoppas, ha annunciato che nelle sue aziende, come ad esempio la San Benedetto di Scorzè, sono state introdotte misure sanitarie speciali, rafforzati i controlli sulla provenienza delle persone esterne e bloccate i viaggi verso l'estero dei dipendenti. Da Padova per il momento è tutto, linea allo studio.